signore e signori buonasera e ben ritrovati con il trading club come sempre andremo a vedere un po' quello che abbiamo visto ieri come strategie sulle granaglie vedremo un po' gli sviluppi che ci sono stati poi andremo a concentrarci sul settore più degli energetici perché abbiamo qualcosa diciamo in ballo sia a livello di opzioni che di spread ma passeremo proprio anche con gli energetici anche sul mondo delle azioni perché ci sono dei titoli legati sempre al mondo petrolifero interessanti proprio per avere una maggiore visione soprattutto sulla benzina ma anche sul petrolio ci darà una mano in termini di volumi come sempre il nostro Stefano prima di dirigerci verso situazioni operative vi avevamo già annunciato le settimane scorse della voglia di una maggiore collaborazione tra di noi non solo una collaborazione diciamo operativa di mercato quella assolutamente portiamola avanti c'è sempre una bella sinergia a livello di community quindi avanti tutto in questa direzione ma vuole essere una collaborazione sempre più aperta a 360 gradi andando proprio sull'academy cliccando su questo annuncio diventa nostro collaboratore guadagna Davide vi spiega un po' quali sono i passaggi proprio per diventare sempre di più un nostro affiliato vi avevo già fatto vedere questa pagina nelle settimane precedenti ed è quello che vi dà la possibilità con un semplice click nel momento in cui conoscete una persona o già la conoscete e volete portarcela soprattutto per qualche riguarda la parte degli starter pack quindi un inizio un avviamento di questa attività che sia in spread opzioni intraday o beta poi poco cambia vi daremo anche un ritorno quindi come ho detto anche la volta scorsa veramente chi trova un amico trova un tesoro perché è giusto che grazie ad un vostro suggerimento sul quale noi ci possiamo guadagnare ci possiate guadagnare anche voi quindi assolutamente aperta grazie a chi ha già deciso di registrarsi tanto poi non è che c'è nessun obbligo basta registrarsi poi l'amico lo trovate oggi domani tra un mese tra un anno sinceramente poco cambia oltre a questo aspetto c'è la possibilità anche di una filiazione a livello di trading club non è ancora attiva a livello online di sito di academy ce lo potete chiedere vi gireremo un pdf un ebook che vi spiega un po' i parametri principali così una collaborazione come dicevo poco fa doppia sia dal versante prettamente operativo sia dal versante di partecipazione dunque addiriggiamoci adesso verso una situazione invece più operativa nella sessione di ieri e anche quella di giovedì avevamo fatto vedere con l'aiuto di andrea quindi anche a livello di opzioni a cosa si poteva fare su questi tre strumenti a corna grano e soia perché c'era l'attesa di una di un dato un dato settimanale assolutamente non tanto atteso ma siamo in un periodo caldo nel senso che è il periodo di semina per quel che riguarda soprattutto gli stati uniti che è un po' il nostro mercato di riferimento con le tante piogge anche il freddo che ha attraversato diverse zone statunitensi diversi raccolti sono andati in difficoltà ovvero sono indietro rispetto agli anni del passato essendo indietro hanno avuto un bel rilancio positivo i prezzi e ci aspettavamo che poteva essersi un ulteriore rilancio tra ieri e oggi un po' nella nostra mattinata proprio perché erano in attesa nuovi dati ce ne saranno altri lunedì prossimo quindi questa strategia non è totalmente da accantonare ma la possiamo rivedere magari aggiustare mettiamola così qualche parametro a livello di scelta strategica di opzioni così magari da avere più facilità di intervento infatti un po' per tutti e tre i comparti è successa la stessa cosa c'è stato un po' un inizio positivo e poi uno sturno infatti tanto per dare seguito alle mie parole di ieri e andare a vedere quello che effettivamente poi l'USDA quindi il dipartimento dell'agricoltura americana ci ha dato possiamo vedere che ieri vi dicevo che lo stadio del raccolto lo stato del raccolto era atteso per il corn nella giornata di ieri a un 68 70 per cento siamo arrivati diciamo al 67 quindi davvero molto vicino alle attese più o meno la stessa cosa per la soia perché era atteso al 40 per cento è uscito una 39 dobbiamo andare un po' più in fondo nel report saltando il riso il cotone e tutte le altre produzioni che al momento al momento non ci interessano e arriviamo vediamo se lo troviamo forse l'ho saltato eccolo qua abbiamo il il grano era atteso un 92 94 ed è uscito proprio un 93 quindi nonostante i raccolti si sono indietro quello che sempre si deve fare con le news è verificare quanto il dato atteso dal mercato si discosta poi dalla realtà perché fosse uscito un dato molto inferiore è ovvio che la dinamica rialzista sarebbe stata molto molto più importante invece come abbiamo visto poi c'è stato anche un rientro delle diverse quotazioni pertanto andandolo a vedere come dicevo poco fa in termini di opzioni purtroppo non siamo riusciti ad intervenire in alcuni casi non siamo andati probabilmente lontanissimo sulla sulla rialzo iniziale però lo vedremo meglio con andrea nel laboratorio di questa sera nel senso che dal mio punto di vista comunque i premi che ci davano su questi livelli erano piuttosto interessanti è vero che erano posizioni naked quindi non coperte non un vertical spread non a bear call ma call nette dall'altra parte potremmo come diceva anche qualcuno ieri all'interno della chat della community fare un vertical magari avvicinandoci un po' di più ad esempio vediamo il commento di Gianluca che dice sono entrato alle 8 e 30 su ZS 21 giugno strike 9 e 90 incasso tre punti non male non male assolutamente poi magari stasera Gianluca ti lascerò nelle mani capaci di andrea così potete vedere meglio insieme questa situazione ti darà un po' anche la sua e magari per questa volta prendiamo noi spunto da te o da una possibile strategia per intervenire su questi mercati ricordando anche che mettendolo insieme con le posizioni che abbiamo in spread quindi in particolare ZC e ZV il margine era veramente molto contenuto nonostante fosse un'operazione nuda il margine era di 160 dollari per un ritorno anche di 150 160 quindi era un ritorno davvero molto molto significativo e vantaggioso quindi al momento nulla di fatto per queste situazioni ma dal mio punto di vista non è un addio ma un arrivederci e perché no un arrivederci anche a questa sera proprio con Andrea adesso come annunciato ci spostiamo dal settore agricolo al settore petrolifero inizio sempre prendendo un po' di spazio nella nella parte di Andrea così c'è anche un po' un'anticipazione a stasera è stato fatto una bull put sul petrolio qualche giorno fa in perdita perché chiaramente il petrolio ha avuto una flessione negli ultimi giorni è stata mediata la posizione quindi siamo ora a due contratti non più uno a livello di strategia e è pronta volendo un'altra possibilità di questo tipo ma attenzione non vogliamo mediare fino alla morte sul petrolio perché abbiamo visto anche in anni passati o meglio in qualche mese fa una perdita del petrolio anche del 30 per cento ora non pensiamo che sia la situazione altrimenti non avremmo neanche fatto un bull put non l'avremmo neanche mediato però neanche rafforzare troppo una posizione sbilanciarla rispetto all'entità di tutto il conto ma come sapete ci piace fare diciamo delle posizioni sempre un po' contrapposte se così si può dire e una bella soluzione che vi volevamo portare era sulla benzina che chiaramente sta avendo anche lei un andamento ribassista come il petrolio o meglio più pronunciato del petrolio mettiamoli un attimo a confronto magari ad occhio nudo è un po' più difficile notarlo però sicuramente anche la giornata di oggi è un po' dimostrazione piccolo rimbalzo per il petrolio sicuramente difficoltà in più per la benzina questo non avviene diciamo a caso ma non so se vi ricordate qualche settimana fa in cui vi parlavo del tasso operativo di raffinazione e quindi delle raffinerie che erano un po' sotto la loro produzione nel senso che la media rispetto all'anno scorso e agli anni precedenti era un po' bassa quindi si era lavorato poco il petrolio per trasformarlo in benzina questo ha fatto sì di avere un'offerta un po' limitata un deficit quasi nella produzione con la crescita della domanda in effetti la benzina poteva essere un po' più sostenuta del petrolio infatti in questo senso il t spread ha lavorato proprio in questa direzione ovvero uno spread uscito qualche settimana fa ormai ha ci dato un bellissimo un bellissimo valore sulla sulla soglia bronze da qui lo spread è crollato da che qua si prevedeva la vendita del petrolio e il contemporaneo acquisto della benzina proprio come ragione fondamentale data anche in precedenza in effetti lo spread ha avuto un'ottima un'ottima ondata ribassista a livello di trading club non l'abbiamo messo in campo perché senza problemi dico che era un po' pesante per il conto che avevamo lì a disposizione perché uno spread del genere margina molto e l'obiettivo di profitto può essere o di perdita può essere molto interessante questa è una discesa di 5 mila dollari so che alcuni che possiedono il t spread l'hanno fatta ci chiedevano un po' in questi giorni come comportarsi a fronte di questo rimbalzo proprio alla luce di quello che sto dicendo sarebbe preferibile dal mio punto di vista abbandonare l'operazione anche se poi incomincerà poi una visione più ribassista ora ammetto anche che io non l'ho portato fino a questi valori quindi i miei complimenti per chi è riuscito a trascinarlo così tanto io mi sono fatto un po' prendere dal profitto l'ho chiusa in anticipo forse rispetto a tutta la discesa però questo potrebbe essere un po' il momento di chiudere l'operazione e di tornare magari in una visione un po' opposta perché in effetti la benzina sta accelerando di più rispetto al petrolio proprio perché nella zona del golfo dove ci sono diverse raffinerie abbiamo avuto un tasso operativo storico di massima per il mese di maggio la domanda non è così forte un po' per il rallentamento un po' dell'economia generale e soprattutto un po' per anche le situazioni di import export create da Trump che sta facendo battaglie con tutti oltre a questo c'è una posizione da parte degli operatori davvero piuttosto grossa al rialzo la vediamo un attimo insieme eccola qua abbiamo qua la benzina c'è una posizione lunga abbastanza importante quindi pensiamo che nel momento in cui questa deve essere chiusa ci può essere ancora di più un'accelerazione al ribasso o comunque in questo periodo può essere il petrolio a sovraperformare la benzina quindi in aiuto da Andrea questa sera un assist per una protezione sul petrolio potrebbe essere quella di comprare una put sulla benzina qualora dovessimo intervenire anche con le altre opzioni quindi a maggior ragione in quel caso farne anche una secca naked potrebbe valerne la pena oppure potremmo pensare di fare un bare put quindi un'operazione ribassista sempre per quel che riguarda l'utilizzo delle put ma con un range più definito di guadagno e anche di perdita il secondo caso soprattutto se rimaniamo con due sole posizioni dal mio punto di vista possiamo pensare ad una naked se passiamo a quattro questa è un po' diciamo l'idea che volevo passare anche per questa sera poi la andremo ad analizzare sicuramente più nel dettaglio per quel che riguarda i nostri spread quindi anche quelli ribassisti sulla benzina stanno lavorando piuttosto bene anche questo con luglio agosto sta accelerando la discesa siamo andati vicino al primo al primo obiettivo di profitto poi c'è stato un po' uno storno però sicuramente da tenere in considerazione quindi questa un po' la situazione sui petroliferi ma a proposito di quello che abbiamo appena detto volevamo capire se anche la nostra scelta di utilizzo delle opzioni poteva essere utile in base un po' ai livelli di volumi che ci può far vedere Stefano così da avere dei vantaggi anche in termini di timing eccoci eccoci come diceva il nostro carissimo buonasera Matteo e buonasera a tutti quanti sì andiamo subito a vedere un po' com'è la situazione diciamo su questa famiglia di sottostanti come sempre allora la grande differenza iniziale su cui andrei a basarmi innanzitutto facciamo sempre un raffronto tra quelle che sono diciamo le le due principali ovvero il petrolio da una parte e la benzina dall'altra come sempre un primo riferimento da un punto di vista di scambi medi come possiamo osservare l'abbiamo già visto nel corso delle dirette di questi mesi il petrolio è una delle materie prime e comunque uno dei future più scambiati in assoluto quindi vedete siamo nell'ordine dai 600 agli 800 mila scambi al giorno con picchi anche di un milione ad esempio quando o c'è qualche dichiarazione di Trump oppure il mercoledì quando escono le scorte che c'è sempre un po' di movimento e qua mi metto il primo asterisco Matteo per quello che vedremo fra due minuti invece la benzina essendo un derivato ma derivato in questo caso non di carattere finanziario ma proprio a livello di produzione anche l'interesse sui future è decisamente minore e infatti viaggiamo tra i 20 anche un po' bassini e i 30 mila scambi su base giornaliera ricordiamoci sempre che un future con molti volumi si muove in maniera più lineare ci fa prendere meno slippage ci dà dei prezzi migliori quindi anche in un'ottica di investimento ci garantisce un'ottimizzazione degli investimenti ma tra un future liquido e una posizione che già abbiamo in portafoglio con il petrolio direi assolutamente di non andare a sovraccaricare il conto con la stessa materia prima sia per un'ottica di ottimizzazione del conto sia in un'ottica anche di attitudine e propensione a quella che è la diversificazione ovvero intestardirsi troppo su quella che è la visione rialzista o ribassista fin quando lo facciamo su un'operazione anche se l'abbiamo sbagliata si limita a quella andare ad agganciare più operazioni relative allo stesso sottostante ci può andare ad incasinare il portafoglio e quindi non è mai cosa buona e giusta quindi tra i due sottostanti dovendo anche ipotizzare una possibile discesa del titolo sicuramente ci spostiamo su quello meno liquido entrambi si trovano a un discreto punto a ribasso rispetto a quelli che sono stati i movimenti dell'ultimo periodo se guardiamo il petrolio non concentriamoci tanto sul grafico questo pallini ma su quello che è questo istogrammo volumetrico che trovate qua sulla sinistra e notiamo subito che il grosso dell'interesse questa è la scadenza di luglio ce l'abbiamo in area 63 il secondo grande blocco lo troviamo qua tra un'area che è i 57 50 e i 59 circa adesso ci troviamo nella fascia più bassa che è dove si sono collocate le ultime due sedute che questo blocco in area 52 e 50 circa 53 la cosa molto buona del petrolio la reazione che c'è stata oggi è molto bella e lo vediamo da un punto di vista volumetrico proprio la bellissima reazione questa giornata che in termini di volatilità non è stata eccessivamente alta ma vedete come la pancia sia molto larga e quindi dopo un movimento ribassista di solito è da un punto di vista tecnico sono quelle candele che poi fanno ripartire un trend mentre questa situazione di debolezza come giustamente aveva evidenziato anche il nostro matteo prima anche a livello grafico sulla benzina non ce l'abbiamo infatti la seduta di oggi è caratterizzata ad abbassi scambi vedete che qua la pancia non è per niente formata è equidistribuita un po in diverse aree di prezzo e anche sull'istogramma di sinistra non è che abbiamo dei grandi riferimenti da un punto di vista di prezzo quindi anche guardando la discesa in percentuale il petrolio è circa un 10 per cento lontano da quelli che sono stati massimi invece la benzina è vedete 10 rispetto al primo valore ma 14 se ne andiamo a paragonare invece rispetto ai massimi che c'erano stati su questa scadenza quindi matteo essendo a ribasso una non essendoci dei riferimenti volumetrici sicuramente dovessi comprare una put lo farei su rb come scadenza in un'ottica di acquisto attenzione è sempre è vero che corriamo già sappiamo già quanto corriamo in termini di rischio massimo però sapete anche che le probabilità di andare in stop sono più elevate aspetterei come sempre i dati di domani che il mercoledì ci sono le scorte non è a differenza del trade che vi abbiamo mostrato tra giovedì e ieri che tutto doveva essere ridotto in termini di arco temporale qua è una situazione di debolezza che comunque anche se la portiamo a posteriore di un 48 ore non succede niente quindi inviterai un po di prudenza sulla cosa ma per il resto tutti i criteri te li confermo giustissimo no grazie grazie mille stefano per per le indicazioni sempre molto precise giustissima giustissima davvero l'indicazione anche per il dato di domani sapete che io non gli do un'importanza in termini di analisi però sicuramente è molto importante in termini di volatilità di ripresa di un trend rialzista ribassista quindi da quel lato è da tenere assolutamente in considerazione per paolo che ci dice il brand è una situazione diciamo simile simile al petrolio quindi la valutazione può essere davvero molto simile non l'abbiamo analizzato in in termini di volumi però bene o male la storia è abbastanza equiparabile sì sì confermo Matteo è giusto per dare un'ulteriore spiegazione al discorso volumetrico relativo alle news macroeconomiche nel momento che agite o in direzionale oppure in spread il fatto che ci sia un'alta volatilità comunque se il trend è piuttosto definito a livello tecnico bene o male se era rialzista continuo movimento rialzista ribassista viceversa quando però andiamo sulle opzioni al movimento del sottostante in proporzione l'opzione si valuta o si svaluta veramente decine di volte rispetto a quello che è il sottostante di conseguenza anche l'incremento di volatilità va molto più a lasciare il segno su un'eventuale operazione in opzioni ecco perché guardiamo le news del mercoledì ottimo ottimo per rispondere a diego poi passiamo al volo a paolo con le azioni per quel che riguarda questa strategia se prendere già un profitto o attendere è sempre un po la domanda da un milione di dollari nel senso che poi nessuno ha mai la risposta perfetta ora chiaramente se si ha qualche contratto in più portare a casa qualche profitto secondo me ci può stare su una discesa del genere viceversa con un contratto solo se si ha qualche dubbio ma se vuole incassare comunque qualcosa ricordiamoci di una trailing stop o comunque di una stop profit magari piazzata non so in base al nostro livello di ingresso se continua a scendere ben venga se torna su ci assicuriamo almeno una parte di profitto non so dalla bronza una parte del prezzo a cui siamo adesso quindi in un caso del genere assolutamente mi comporterei in questa maniera se si hanno più contratti secondo me si possono separare sicuramente meglio passando ora al sempre al settore dei petroliferi ma alle azioni vediamo insieme a parlo a che informazioni possiamo ricavare che ci possono tornare utile per aggiungere elementi anche l'analisi precedenti ciao matteo buonasera a tutti anche da parte mia parliamo di raffinerie in quest'oggi quindi diamo seguito un po ai vari ragionamenti che hanno fatto gli altri miei colleghi nella quale voglio partire innanzitutto prima dal l'etf quindi dal dalla macro area diciamo dove sono andato a scovare poi i due titoli che comporranno oggi il nostro spread l'etf si chiama vanek vectors che come come tic era crack è un etf molto interessante ehm prima di tutto da un punto di vista di 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 parte commissionale nella quale nella quale c'è l'opportunità di di avere un un rendimento se lo deteniamo in portafoglio per chi ha l'opportunità di tenerlo in portafoglio di incassare a livello annuo circa un 6 per cento quindi livello a livello di stock e lo sto parlando ehm siamo intorno al al 12 per cento come come ritorno passivo per il prestito di questo eventuale etf l'unica cosa che ha pochi volumi come potete vedere sono pochi pochi scambi in realtà l'etf non era l'obiettivo dell'analisi di oggi ma è proprio da partire a ragionare su questa su questa macro area il titolo di cui volevo parlare è VLO ovvero Valero Energy è un titolo che già in passato avevamo analizzato e lo conosco eh molto bene perché da diverso tempo lo lo guardo lo seguo lo è una bella società innanzitutto perché innanzitutto è la maggior la migliore raffineria che troviamo negli Stati Uniti eh lui è sede in Texas quindi attivo nel campo come dicevo prima della raffinazione del petrolio e anche del gas naturale ha se non erro diciotto raffinerie sia negli Stati Uniti in Canada nei Caraibi ma anche nel Golfo che se non erro diceva Matteo poteva essere proprio una un punto importante per per i vari scambi ehm tra alcune analisi dal punto di vista fondamentale ho sono andato a scovare che a livello di di raffinerie di affiliati eccetera producono circa tre virgola tre milioni di barili al giorno ed appunto come dicevo poco fa la va a rendere questa società appunto la raffineria più grossa eh degli Stati Uniti ehm perché parliamo di questo titolo? Perché sembra diciamo che a livello ciclico per quanto riguarda i movimenti che fa Valero o che fa comunque un titolo sulla raffineria possono essere degli anticipatori di movimento magari dopo Matteo ci dice un attimino la sua visto che è molto correlato con con la materia prima ehm in realtà io quello che volevo proporre oggi restando nell'ambito è il seguente volevo comporre uno spread con un altro titolo che fa parte sempre dell'ETF quindi della macroarea che è Marathon Oil un altro titolo sempre che sede in Texas ma con un business un pochettino più più ristretto e eh l'idea sempre ragionando su questo comparto è quello di comporre uno spread diciamo una strategia in beta a livello protettivo quindi andando ad acquistare il titolo che tendenzialmente in questo caso ha il beta più basso rispetto a quello che andiamo a vendere eh a livello di spread se guardiamo la lo screenshot che ho preparato eh quello che si può guardare che comunque è lo spread molto interessante secondo me sicuramente è sempre meglio andare a ad acquistare questi spread quando troviamo magari anche un incrocio o un MACD tendenzialmente sotto lo spartiacque dello zero quindi con anche una eh un segnale più più forte diciamo per una possibile ripartenza però il segnale si sta verificando proprio oggi un RSI che ancora non non ci dava un'indicazione né di per comprato né di per venduto quindi potenzialmente anche lo spread in sé che ho composto su un investimento di 1000 dollari con 14 in acquisto di Valero e eh 74 in vendita per quanto riguarda Marathon è uno spread comunque interessante è sicuramente uno spread che deve viaggiare nel breve periodo questo secondo me si parla di eh una scadenza di circa un mesetto un mesetto e mezzo non di più perché comunque eh vedete che è già comunque a livelli piuttosto importanti se fa la tirata la fama eh anche avere insomma adesso siamo intorno a 2788 come area di prezzo anche rivederlo insomma a quota a quota 100 o un filo quota 100 sopra insomma è un bel risultato diciamo eh volevo sentire però proprio per questo fattore dell'anticipazione diciamo del dell'andamento anche un attimo Matteo che sicuramente che con petrolio gas eccetera è sicuramente un po' più un po' più informato di me per quanto riguarda la materia prima in se insomma ottimo ottimo Paolo sì in effetti eh in alcune fasi crea crea una sorta di di anticipazione rispetto al petrolio cioè eh quando questi titoli incominciano a scendere il petrolio magari ci mette uno due tre giorni in più eh e lo possiamo vedere dal dalle date e in effetti crea un po' diciamo eh situazioni di questo tipo eh quindi possono essere utilizzati anche un po' in in questo senso eh perché eh lo vedremo poi più nel dettaglio ehm il il fracking che è il processo proprio di delle raffinerie di trasformazione eh chiaramente eh fa crescere poi la domanda per alcuni beni petroliferi quindi crea per assurdo un effetto un effetto opposto e in alcuni casi questa cosa è un po' più marcata in altre meno perché eh chiaramente eh poi come ha detto Paolo eh queste società hanno business anche un filo diversificati quindi eh magari occupandosi anche di gas di altri elementi è ovvio che possono non essere perfettamente a correlati poi ad una singola materia prima però ehm anche in passato li abbiamo utilizzati un po' come come anticipatori eh di queste situazioni quindi eh sicuramente da verificare comunque eh quello che volevamo farvi passare oggi che al momento eh la benzina sembra più debole eh rispetto al petrolio quindi può essere utilizzata in termini di opzioni eh nel nostro caso un po' per accoprirci andando comunque su un andamento su un settore eh altamente correlato ma che sta facendo peggio quindi eh una vera e propria protezione un vero e proprio edging stessa cosa che facciamo con gli spread eh se in passato abbiamo puntato di più sulla benzina eh nel questo breve termine potremmo puntare un poco di più eh sul petrolio ora ehm la benzina come altra parte positiva è che comunque la media eh diciamo della del tasso operativo di raffinazione è ancora basso rispetto ad altri anni del passato però quello che è anche più basso è la domanda eh quindi questo potrebbe essere eh diciamo l'unico fattore un po' rialzista del del momento eh staremo un poco a vedere ma eh essendo sempre diciamo in spread o con strategie coperte appunto eh ci garantiamo sempre una maggiore protezione eh quindi oltre a vedere questa cosa con Andrea questa sera a livello di energetici c'è la possibilità anche di rivedere un po' la situazione sempre legata alle materie prime con le granaglie poi ha sicuramente tanto altro sempre interessante da analizzare in termini energetici vedremo più nel dettaglio domani sera il natural gas perché qualche situazione interessante almeno a livello di spread sta incominciando a fuoriuscire grazie per essere stati con noi anche questa sera vi lasciamo tra un'ora con il laboratorio operativo sulle opzioni per tutti gli altri aggiornamenti come sempre domani alle 19.30 un abbraccio ciao a tutti ciao